È una delle manifestazioni più importanti del Basso Mantovano, ma la crisi e il sisma ne stanno mettendo a rischio l'esistenza stessa. Quingentola Arte è andata in scena anche quest'anno e domenica conoscerà il suo gran finale. Ma tra i tanti problemi che l'organizzazione deve affrontare vi è l'inegibilità del teatro di Quingentola, che in passato era un buon serbataio per l'autofinanziamento della manifestazione. Il teatro per noi è una sorta di luogo che unisce la comunità, per cui quando il paese segue in qualche modo le commedie che la CQ fa, risponde venendo copiosamente e spesso c'è il tutto esaurito per 3-4 serate. Quindi l'incasso viene poi reinvestito sulle iniziative. Quindi il teatro per noi sarebbe la manna dal cielo, cioè sarebbe il fatto di poter rimettere in moto tutta una serie di iniziative. La voglia di andare avanti comunque c'è e lo dimostra l'eccellente cartellone di quest'anno che non ha nulla da invidiare a quello degli anni precedenti. Teatro, musica, performance, danza, temi impegnati e altri solo apparentemente più disimpegnati. È una capacità di attrarre un pubblico che va dai bambini ai non più giovani. Un piccolo patrimonio che tra quest'anno e il 2014 sarà importante conservare con tutti i mezzi possibili.